una norma o due norme così importanti per avviare il percorso di riforma dei campionati. È stato sancito un principio da me sostenuto all'interno della mia piattaforma programmatica, quindi un argomento importante, la Serie B avrà il suo format a 20, ma la modifica significativa di questo articolo 49 è che viene sancito un principio fondamentale, quello della golden share da parte delle singole componenti che si assumono la responsabilità politica di poter autodeterminare nel rispetto, chiaramente negli accordi con le altre leghe, il proprio format. Per cui è stato stabilito il minimo, 18 e 18 per la lega di A e di B, 40 per la lega pro. Questo significa che in caso di vuoto da organico ciascuna componente può autonomamente decidere il numero delle società che comporranno il proprio format, così come nel caso in cui entro il 31 dicembre dovesse individuare un format differente, dovrà farlo con le maggioranze del Consiglio federale e comunque deve interfacciarsi con la lega interessata. Esempio molto banale, se la lega di B vuole andare a 18 non lo può fare autonomamente, può chiederlo autonomamente, ma si deve interfacciare comunque con la lega di serie A o la lega di serie C.